Katherine Boyer-Waterstone è un'attrice statunitense Ha interpretato il ruolo della protagonista in vizio di forma di Paul Thomas Anderson e di Chris-Anne Brennan nel film biografico Steve Jobs Nel 2016 interpreta Tina Dolmsteen nell'adattamento cinematografico di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Primo film tratto dall'omonima opera di G. K. Rowling Katherine Waterstone è nata in una famiglia di attori. Questa è infatti la professione del padre Sam Waterstone e dei suoi fratelli Elizabeth, Graham e James Ha esordito al cinema nel film Michael Clayton, mentre nel 2009 è interprete di Motel Wobstock, ottenendo in seguito alcuni ruoli di supporto in Robot and Frank, Bing Flynn e La scomparsa di Elano Rigby Nel 2013 recita in Light Moves, mentre in televisione appare nella serie TV Boardwalk Empire Nel 2014 recita nel film di grande successo vizio di forma, mentre nel 2015 è la coprotagonista del thriller qui in offerte fa inoltre parte del cast di Steve Jobs Biopic diretto da Danny Ball sulla vita dell'uomo chiave di Apple Nello stesso anno viene scelta per interpretare Tina nel film Animali Fantastici e Dove Trovarli Primo film di cinque spin-off della saga di Harry Potter, dove recita al fianco di Eddie Redmayne Nel 2017 recita nel film Alien, Covenant, pellicola della serie di film Alien e diretto da Ridley Scott, in cui interpreta il ruolo della protagonista Nelle versioni in italiano dei suoi lavori, Katherine Waterston è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al Calane